bene abbiamo iniziato la sessione per pia quella che vedete al buio ciao adesso avete visto una testa al buio che se allora come sempre conto da 5 a 1 abbiamo sentito i punti di pia adesso ti connetti a lei 5 4 3 punto no dimmi se la vedi allora vedo questa scena vedo una donna in una vita passata parallela e contornata da tantissimi tanti tanti cani come se stesse in un resort dove lei prendeva questi cani dalla strada e le dava a mangiare si occupava di loro mi mostra questa scena ok dove si trovava in che paese vedo svizzera ok questo posto in cui ti trovino diciamo dove sei non è il solito senti di qualcosa di diverso beh come se quello che mi è arrivato immediatamente come se fosse comunque non un caso che la sessione che viene fatta per per pia è sì dove mi trovo nel senso comunque collegato alla montagna tanto è vero ci sono stati poi dei cambiamenti no adesso lo vedo ah sì infatti ok pia ti dà l'autorizzazione sì si gira in quella vita e mi fa un cenno con la testa ok c'è qualcuno che assiste alla sessione già da adesso allora già da prima vedevo delle disincarnati collegati alla casa di cui lei parlava mentre lei parlava con quella con tante stanze è come se comunque sono interessati e poi c'è qualcuno anche qua di pia e no di qualche disincarnato niente è stato quello che stiamo facendo ok che si trova nell'edificio in cui ti trovi tu esatto ok partiamo dai tuoi portale un portale ideale dorato dove ognuno di loro entrando in questo canale diciamo in questa corridoio dorato acquisisce tutte le informazioni delle mie sessioni e quindi si dirige staccandosi da tutto quello che terreno verso una situazione avanzata e di consapevolezza sì c'è il nostro dolce al tunnel che si è aperto dorato e ci sono tanti disincarnati che vanno abbastanza popolato era il posto in cui stai ok pulito non cerca anche da me già che ci sei non sono disincarnato ok torniamo da pia allora andiamo alla casa con le tante stanze è lì che vedevo quando tu mi hai chiesto se c'è qualcuno che che vede come se lei mentre parlava di questa casa e lei comunque ha la sensazione che ci siano anche quanti sono lì tanti perché già mentre parlava vedevo famiglie su famiglie su famiglie che si insomma che io ne vedo 150 tutti quelli che sono siano quelli che siano parenti non parenti discendenti di bia ma non importa tutti quelli che sono lì ricordami un attimo fosse tutti i ricordi meglio di me sabrina e questa è la casa davanti alla chiesa ok si si lo dice sta dicendo va bene tutti quelli che ci sono nella casa e nell'arco usando cioè tracciando una un cerchio col centro nella casa nell'arco di 20 chilometri tutti disincarnati quindi tutte le chiese non solo quella vicina tutti cimiteri 20 km via raggio di 20 chilometri quindi diametro di 40 un raggio di 20 chilometri diventano 1.200 però va bene tutti attenti tutti interessati beh perché come se ho fatto un cerchio energetico non raggio di 20 chilometri come se loro si sono sentiti chiamati in causa diciamo così quindi sì sì ok tra questi ci sono anche quelli che lei ha visto a a 13 anni 13 anni lei vede una processione di anime in casa un 50 cento anche di più intente in una qualche litania no sono edb essere del buio ok occupiamoci dei disincarnati io non so dove sia la casa in cui abita p adesso può essere vicino lontano a questa qui delle venti stanze in ogni caso vediamo anche in casa e cena vicino ok va bene vediamo anche nella casa di pia se ce ne sono altri 22 soli ok tutta questa massa di disincarnati che non anche più mente qualsiasi numero si faccia avanti quello quelli 23 anni più che lei sentiva nella casa dei genitori più e più volte li sentiva vicini li sentiva mi rivedeva a volte vedeva la sagoma sul letto che dormiva accanto a lei era un uomo che stava che ha vissuto nella stanza dove stava lei vedo questo come se c'era un signore che praticamente prima di lei e anche molto 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 prima diverse generazioni sono passate ha vissuto in quella stanza ed è stato rimasto lì perché è stato ucciso lì ma parliamo di generazioni precedenti nel senso è come se lui fosse rimasto lì e percepisse cioè non riuscisse a comprendere che quello non era più il suo posto la sostanza e quindi lei io credo che non so se lei anche lo vedeva come figura maschile o percepiamo figura maschile ma come si chiama jack ok poi i dettagli jack nome inglese questa è una casa in italia questa casa magari non ha così tanti anni quindi per linee temporali l'informazione va presa un po' con le mani quello che importa è che qui c'è un jack che dice qualcosa adesso a noi lui dice come se in questo momento si stia rendendo conto che quello che sta succedendo perché lui dice che ha rimasto lì e ha avuto una morte irruenta come dire non 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 aspettata non si è staccato dal corpo in maniera molto irruenta e quindi è come se lì per lui è come se fosse successo da poco lui mi porta questo esempio dice come se io mi sto rendendo conto da poco per me è successo ieri cioè nel senso non si rende conto non c'è la concezione la percezione di chissà quanto tempo anche se si rende conto che lui dice che ha visto diverse scene dentro questa stanza prima anche di via ha visto diverse persone e ha tentato di comunicare anche con altre persone che sono state in questa stanza fino a che arriva da lei e quello che lui lui dice che non voleva spaventarla voleva solo cercare di capire che cosa stava succedendo perché si sente incastrato questo è quello che dice usiamo jack come esempio gli mostriamo il suo portale ideale e dimostriamo il modo per andare davvero lì dentro quindi staccandosi da tutto quello che terreno e come lui tutti quelli che abbiamo chiamato di tutte le case di pia di tutto il circondario di pia 20 chilometri di raggio allora si apre un grande portale luminoso jack però questo portale non è solo di jack diciamo è molto più in alto dove siamo arrivati anche in altre sessioni quindi è un portale unico grande luminoso che vibra tantissimo e lui ha compreso e lui è come se stesse passando le informazioni agli altri che hanno più paura mentre lui è stato più meno pauroso a esporsi a essere chiamato un caso a esporsi quindi è come se stesse passando le informazioni agli altri di questa casa compreso ai due che vedevo nella casa di assodipia e è come se fa l'invito con la mano ad entrare lui a seguirlo perché lui ci sta entrando c'è entrato e gli altri lo seguono e nel mentre entrano in questo portale luminoso è come se da forma umana diventano energia perché altrimenti non possono stare lì cioè devono lasciare abbandonare il discorso della dell'attaccamento quindi è come se nel passaggio nel confine tra di qua e di là quando passano diventano energia per quelli vedo nel tunnel che camminano e si staccano altrimenti non potrebbero passarci quindi come se passando quel confine si staccano entrano stanno entrando questa energia non colore una forma e dorato e dorato come fosse cristallo cristalli d'oro così è grazia pia che tutti questi disincarnati hanno fatto un balzo in avanti pazzesco un messaggio unico da parte di un portavoce a lei ce n'è non c'è una donna c'è una donna giovane che si presenta con un vestito come diciamo a manica lunga marrone con la conna lunga con un pareo davanti bianco come quelli per cucinare come posso dire e lei si presenta e dice che tanto tempo che stanno cercando di parlarsi per comprendere come fare e quindi lei dice che che i messaggi che che più ha avuto era anche da lei c'erano tanti che cercavano di interferire di di farsi vedere per cercare di capire per essere per capire che cosa dovevano fare perché come se erano incastrati come se c'era una una gabbia all'interno di questa casa dove loro si sentivano incastrati se pia ha deciso di fare questa sessione al cento per cento questa percentuale in parte la deve a ai disincarnati 35 che lei dice che tanto che cercano di comunicare con lei soprattutto qui rec ok quindi ok va bene va bene chiudiamo questo portale li salutiamo tutti salutiamo questa donna e andiamo all'epoca di 13 anni in cui ha visto la processione chiamiamo questi esseri del buio si presentino tutti io vedo delle macchie nere energetiche con dei mantelli neri con dei cappucci a punta questo è quello che è quello che vedeva anche pia da come annuisce essere buio quindi con l'universo se se le le viste perché preferiscono con lei o le ha visti così no lei li ha visti perché interferiscono con lei o meglio cercano di interferire perché quello che vedo io da qui e che vanno in contrasto con gli edl ok lei ha l'entità di pia quindi quelle teoriche edl mi sembra di capire edl 4 sopra sopra vedo due angeli c'è sopra gli edl vedo due elohim io li chiamo angeli con le ali proprio sopra 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 loro vedo dino e sopra sopra audino vedo zeus e poi zeus con la pinna quindi nessuno potrebbero ci sono degli esseri del buio sì solo che questi esseri del buio in questo caso è come se fossero volessero avvicinarsi ma vanno in dissonanza con gli edl non so perché vedo questa c'è proprio diverso da una cosa nuova nel senso è come se loro vogliono avvicinarsi e fossero legati anche a tutte le sue credenze questo mi viene come se a questi esseri del buio fossero legati a lei grazie alle sue credenze di religiose che portano poi a non so perché li vedo collegati con questi elohim come se collaborassero con gli elohim ma fossero non in sintonia con gli edl come se gli edl dicessero no lei ci siamo noi e voi non potete però cercano di interferire dall'esterno quindi ma le conoscenze e le credenze religiose sono del passato però sì però lei quello che vedo io adesso oggi qui è che comunque lei fa difficoltà a staccarsi sono del passato ma lei ha ancora dei dubbi che toglierà sul quale dovrà lavorare però lei ancora legata in qualche maniera a degli impianti pia testa c'è un come se fosse un io vedo un vortice che finisce c'è vedo un vortice che finisce con una pietra di metallo come se lei in determinati momenti lo aprissero utilizzasse per smuovere delle energie dal quale entra e esce qualcosa poi vedo schiena e sulla spina dorsale a volte vedo un mal di schiena e ovaie altezza ovaie delle palline di ferro e piede sinistro vedo qualcosa sotto la pianta come se a volte prudi prude il piede e piede sinistro chi ha messo questi impianti allora mi è bello cioè di subito po sedone però po sedone non lo può fare vedo cioè nel senso lui non può direttamente farlo e quindi tra po sedone come se a una collaborazione di qua con delle mantidi quindi mantidi nell'abduction ok se l'abduction se l'interferenza di pia è un cento come si spartisce l'incidenza in tutti i livelli non soltanto gli impianti di tempo di adaption che l'incidenza del primo e del secondo universo quindi di zeus capo e di posidone capo 70 zeus 70 30 quindi non è poco 30 no sole come se fanno difficoltà e quello che sto vedendo da qui che sento proprio di dirlo e che è sempre più difficile cioè come se fosse proprio questa sta affinando loro non lo so c'è la sensazione proprio che vedo che percepisco d'acqua adesso il secondo universo dice se come se fosse sempre sempre più complicato quasi come se da qua un po sarà non dico impossibile ma poco ci mancherà come se ok ok ci sono abduction giusto se si è detto quante ultimamente sono diminuite a 12 mese da quando lei ha avuto comunque un percorso ha iniziato un percorso a rendersi conto anche nei sogni vedo che lei in alcuni sogni come se la sua ps si rendesse conto che non è un sogno cioè lei lo sa e come se libera se si ribellasse quindi ultimamente sono diminuite siamo 12 da circa sei mesi ok abbiamo appena finito i disincarnati quindi direi che ne approfittiamo chiamiamo il disincarnato che pia vuole chiamare cioè il padre morto da due anni e con cui lei non aveva un grande rapporto ma si è sentita tradita perché è scomparso per una malattia futile ed improvvisamente chiamiamolo è strano perché si presenta su dei pattini come se lui volesse sbrigarsi dice come se lui si presenta così perché dice che in questo modo è arriva più veloce può muoversi più velocemente ma è contento di essere stato chiamato da sua figlia se un'occasione in cui può fare un salto pazzesco di consapevolezza e di percorso sì perché come se anche lì il discorso pattini sia messo mi sbrigo per venire da te cioè come se lui già sapeva che lui dice che come se fosse già qualche giorno che sapeva di questo lui ci sa parlare delle sue interferenze e della causa esoterica della sua morte così improvvisa e inaspettata lui dice sono stato fregato da chi a lui perché dice perché nei sogni avevano promesso qualcosa di più buono di più bello ok lui è una parte subliminale sta parlando con un certo e vedendo quella che ti comunica le cose sì ok vai sabrina se non ti costa troppo sforzo al momento in cui questa parte subliminale nel passato che non esiste ha deciso un giorno di inventare gli elohim allora io vedo un letto in un ospedale dove c'è con lui c'è questo uomo e con un camice bianco da ospedale con un lenzuolo sopra è come se lui avesse chiamato stava facendo una sorta di preghiera come se era disperato e non riusciva a comprendere perché stava lì che cosa stava succedendo era come se fosse un attimo incosciente dal corpo ed è come se quel momento di incoscienza ci sia stato uno stacco insomma della sua parte spirituale e abbia visto questi esseri in questi angeli che gli dicevano che se vieni via con noi finisce di soffrire e chi sta intorno a te finisce di soffrire ok la mia idea però era leggermente diversa vai nelle vite precedenti nel passato a vedere chi nelle parti subliminali in questo perché potrebbe non essere stato lui ha inventato gli elohim lui ha detto sono stato fregato dagli elohim e io correggerei la sua definizione in mi sono fregato da solo perché andò ricordando di averli operati cattivi elohim brettiliani non importa oggi dico mi hanno fregato ma dovrebbe dire è un gioco mi sono fregato da solo è l israeli israeli e già come ho visto anche un'altra sessione ho visto per una cosa similare e vedo del delle persone che sono inginocchiate che cercano la salvezza in qualcosa di più grande di loro quindi è come se in quel momento si siano unite le loro una preghiera o comunque un'energia di disperazione ok forse questa energia disperazione per la povertà per un discorso di di non di non avere una guida di non avere una di fare una vita comunque distenti è come se loro hanno si sono messi si sono inginocchiati su un monte e mettano le braccia davanti si inginocchiano si stendono in quel momento è come se tutte le loro la loro energia di di disperazione avesse si fosse unita e creato un qualcosa al quale imputare il loro bene come posso dire vedo questa scena ok perché israele gerusalemme tutta quella giornali del mondo è così impestata è una zona energetica molto importante diciamo che è come se fosse stato quel periodo in questa linea temporale parliamo perché poi ce ne stanno anche tante altre fosse stato concentrata la l'energia che sia che è stata utile per essere creati è come se c'era c'era proprio un bisogno in quel periodo di trovare un un qualcosa al quale venerare e far sì che grazie a qualcosa dall'esterno loro potessero stare bene quindi è come se questa energia di disperazione di preghiera di disperazione però si fosse fosse rimasta lì e poi è lì e quindi allora e allora adesso basta con israele sono francamente stancato quindi creo una sfera gigantesca piena di informazioni in ogni tempo ancorata aggrappata a questa lì questo luogo energetico tutte le linee temporali tutti i tempi dall'inizio del tutto a oggi quella sfera è aggrappata lì come una zecca al cane e quella sfera è lì ingloba tutta quella zona del mondo chi passa da lì se piglia l'informazione o se ne va se resta se la piglia è solo informazione allora abbiamo messo una una palla l'informazione su tutta quella zona ed è come se questa palla da questa palla scendessero ogni volta che vedo che passa qualcuno è come si scende un tipo un candelotto di informazione e c'è chi lo prende chi no però le chi non lo potrebbe si prende il candelotto in testa tutte le volte che esce di casa per sempre oppure se ne va da un'altra parte questa è una zona del mondo vitale fondamentale a livello energetico importante e da cui dipendono le sorti purtroppo del mondo ci sono passate tre religioni con vari conflitti un popolo è stato cacciato è stato messo un altro popolo in virtù di un libro mezzo inventato mezzo no per via di tante persone che oggi come andano il mondo tutta una serie discorsi che ora non ci interessano noi però vogliamo la nostra bella palla cacchina no poi andiamo lì e tutti ci mettono la faccia in questa bella palla cacchina se no se ne vanno da un'altra parte perché quando è troppo e troppo ok bene il padre cosa fa vuole lasciare un messaggio alla figlia lei lui dice che con i pattini così è andato via vado via velocemente chiede scusa perché non ha avuto modo di esprimere quello che che voleva può farlo da lui dice che comunque la ringrazia per quello che sta facendo perché dice che sono già dei giorni che la sta osservando è come se lei stava pensando a lui per questa per essere comunque chiamato in questa sessione quindi lo dice il pensiero che tu mettevi mentre mi pensavi mi ha attratto qua e dal punto di vista in cui io sto già visto quello che stava per accadere e quindi quando sapevo quello che stava per accadere che e quindi ho messo i pattini anche per sbricarmi per arrivare da te cosa avrebbe voluto dire alla figlia se non fosse capitato quello che è capitato dice che avrebbe avuto voluto più più tempo per stare un po più accanto a lei e che comunque anche se io ero un po chiuso e non era non era perché volevo essere da confronti ma perché mi è stato insegnato così perché comunque l'emotività per quello che per come sono cresciuto qui era come se fosse una debolezza io non volevo trasferirti una debolezza quindi cercavo comunque di far sì che tu potessi imparare a contare su te stessa ma tu non mi hai capito in questo io volevo soltanto che tu imparassi a essere forte questo non vuol dire che io non ti ho voluto bene ma semplicemente che a me è stato insegnato a essere forte a contare su di me e basta io volevo insegnarti a a essere forte ea via un essere un pochino meno emotiva per essere più forte ma in realtà non trovavo tanto sentimento però per me dimostrarti verrà come insegnarti a essere non è debole ma non è così basta sì sì ancora i pattini ok cosa fa vuole andare perché ha detto che quello che voleva dirgli l'ha detto era attaccato alla terra qualcuno o qualcosa lui era uno dei due disincarnati che vi si dava alla sua casa con i pattini già all'epoca sono un paio di giorni e lui pattino intorno a lei e lei l'hanno ha sentito perché è lei l'ha chiamato non quelli che dormivano vicino a lei eccetera no no che arrivano dei disincarnati che arrivano nel due tra giorni va bene lo salutiamo e lo invitiamo nel suo portale ideale dimmi come se ne va si toglie pattini e come se c'è diventa ps adesso sempre di più vedo questa cosa nelle sessioni lui diventa ps lascia dalla fisionomia come se fosse una tuta che cade giù in diventa nulla e si stacca e basso e questo c'è questo tunnel altissimo in alto dove siamo noi ci siamo noi tre e lui va sopra sopra e si apre questo tunnel dorato sembra quasi di cristallo di cristalli che gira tutto illuminato e diventa ps perché soltanto se 6 ps lo puoi fare vuoi attraversare questo dunque se hai preso comunque determinate informazioni altrimenti non lo puoi fare e lui l'ha fatto e quindi sta andando su e entra dentro questo tunnel luminoso di cristallo dorato vabbè lo salutiamo ok e torniamo a pia come la vedi sta adesso la vedo come lei adesso però c'è sempre questa c'è lei di adesso e poi questa dall'alto di fronte mi mostra mi indica questa vita con questi cani su questo monte svizzera questa donna che che si occupava di questi cani perché se lo vuole spiegare è come se lei dice che in questa vita percepiva e a livello energetico la sofferenza di queste parti eteriche è come se in questa vita lei era sofferente per loro e quindi ha cercato il più possibile di di creare una sorta di resort dove accoglieva queste queste parti questi animali questi insomma cani era particolarmente legata ai cani lei in questa vita e ha salvati tanti ed era solo nel senso che non era solo nel senso non aveva una famiglia non aveva un compagno e si è allegata moltissimo a dedicarsi alla vita insomma di questi esseri come se fosse ci fosse rimasto qualcosa nella sua mente cioè nella sua del suo ricordo della ps di questa vita però non è una cosa negativa cioè fosse un legame comunque che lei ha infatti la sua parte federica è al 70 per cento rispetto alla ps ok sabrina causa esoterica del cordone al collo alla nascita che quasi la faceva soffocare lei dice non volevo nascere sia per questo motivo sia perché ero al decimo mese ora quello che vedo io da questa scena io vedo edp esseri del buio e angeli che litigano se e la sua ps che c'è lei diciamo la sua parte vedo proprio della sua energia all'interno della della forma umana bimba che comunque non voleva dare retta a nessuno dei due come posso dire era confusa e quindi c'è stato un momento di di sfuda in questo momento ma lei è come se non voleva scendere lei stava arrivando non ha visto i due lupi quelli neri e quelli bianchi e voleva tornare via e ora tornare indietro per ormai dieci mesi perché la madre stava per morire due giorni di travaglio qual è la causa esoterica è un angelo legato alla madre o alla figlia no la mamma no no ok molto interessante fobia dell'acqua se vogliamo rimanere soffocati ha poi un seguito in vita poiché pia si ricorda di essere affogata e nitido di quando aveva tre anni che lo dava per scontato fosse successo nella sua vita vivendo poi il conto ai genitori è stato fuori che non è così vita precedente assolutamente sì l'ho visto infatti gli ho chiesto se era morta se nella sua visione nel suo ricordo quando negava io ho chiesto senza che l'ho visto proprio lei era su una barchetta come se vedevo che era su una barchetta in una vita precedente barra parallela e viene però spinta da qualcuno e mi annega e quindi a questo ricordo come se ce lo ha nel senso perché lì e lei in questa vita è andata di là è adulta in questa vita no piccola ok lei ricorda una mano che le tiene i capelli e la testa sott'acqua è stata spinta sì cioè non è stato provocato non è stato un incidente ok ed era vero piccola non vogliamo desiderano fuori da un patrimonio c'è un insomma una gravidanza non che non doveva secondo la situazione e vedo essere esserci l'assassino chi è si rinassino lo zio e lo zio è nella vita di pia oggi cognato hai un cognato piacere dalla faccia che stai facendo sì ok la fobia dell'acqua nasce da questo si è un classico la vita precedente in cui sono affogati si è morti nella tempesta con la barca eccetera pia però vuole vincere questa fobia tanto che combattendo contro se stessa è arrivata a fare un corso superandolo dove metti la testa molto sott'acqua non lei la già pinta io vedo che lei l'ha già faccia lei è proprio non ha accettato questo su questa cosa che le è accaduta perché e quindi lei vedo che la sua ps ha già la sua p e la sua ps ma c'è tanto anche di vie qui è come se avessero detto ok no dobbiamo superarla quindi lei già in consapevolmente a perché lei sa tutto quello che ha visto nel senso tutto quello che stiamo dicendo del discorso del della vita che è successo quello che è è arrivando a fare questa cosa del corso è come se lei consapevolmente abbia detto a se stesso che non voglio devo superarla non mi sta bene quindi abbia già fatto un percorso diciamo consapevole ce ne lo sa non è una cosa in consa ecco va bene causa soterica del fatto che lei ha delle capacità quindi questa è una l'aver capito che doveva combattere la sua fobia e non dedicarsi alle vacanze solo ed esclusivamente in montagna la seconda è vedere i disincarnati vederli sentirli gestirli non averne anche paura anche questa una grande capacità allora subito ho visto una vita dove lei era una sorta di che noi chiamiamo strega ma una persona che ha già già avuto ha messo in pratica già in un'altra situazione io vedo medioevo e vedo una casa dove lei faceva già delle cose quindi lei è come se la sua ps e conosce determinate percezioni sapete il mezzo per quindi è collegato a questo quindi come se già l'avesse fatto e poi è come quello che vedo che mi che sento proprio come se lei comunque non è come se fosse cioè come se fosse arrivato a uno stadio tale che alla fine è come se le ps che fanno determinati percorsi alla fine ci arrivano non lo so come se mi sono spiegata è uno step di consapevolezza quindi ci arrivano quindi è come se comunque mancasse poco per non tornare più però tornerà quello che vedo che tornerà ma poche volte cioè come se fosse un facesse parte del di un percorso di consapevolezza questo questa capacità e lei ha preso ok curiosa e attenta al mondo sottile ha fatto un sacco di corsi uno l'è rimasto quello della riconnessione e la riconnessione permette di guarire in un modo simile al reiki ma non è reiki volendo anche i malesseri di qualcun altro cosa che le capita in famiglia di fare vediamo prima questo aspetto allora io questa pratica la vedo legata ai elohim e dl lo vedevo già prima tutte queste pratiche particolarmente energetiche dove c'è lei a per come la vedo io da qui comunque l'energia che lei a potrebbe tranquillamente utilizzare la sua però lei è come se si nel momento in cui fa questa pratica si connette non lei pensa all'universo qualcosa di positivo ma in realtà quando lei si connette non avendo non sapendo ancora ma magari adesso lo imparerà come proteggersi come veramente prendere l'energia che poi da dentro se stessi semmai non dall'esterno perché la nostra energia è infinita e rigine e si rigenera quindi non c'è bisogno di nulla in realtà lei prende mette la mano fuori però in quel momento come se apre un portale e fa passare dl e quindi quel momento è come se arrivano tramite il suo la sua mano il suo braccio sulla persona al quale lei sta facendo la pratica che spengono il sintomo come posso dire ma realtà lei sta passando altro e vedo che c'è un fluile di questi qua questo è quello che vedo va bene durante uno di questi corsi le fanno disegnare o lei disegna l'angelo custode uno dei due esatto più alto più basso no più grande si chiama samuel puri al tutti e due uriel è quello che lei chiama l'angelo custode e l'altro si chiama samuel ok come sono stufo gli angeli custodi gli scriviamo con un pennarello indelebile sulla fronte a tutte e due noia a 1 noia a 1 boring che vuol dire noioso su contenti e stavano su dei piedistalli quando visualizzati adesso scendono giù cadono da questi piedistalli con la loro scritta sulla fronte a come abbiamo messo la scritta sulla fronte si causa esoterica della mancanza di memoria cronica e poi è come se ci sono questi due angeli che sono molto attivi nella sua sfera energetica come se che lei ha la potenzialità comunque di avere un cioè come ricordo di questa vita ma se lei si concentra nei sogni io vedo che lei ha visto anche altri pezzi di vite parallele barra passate quindi è come se cancellano come se tentassero di creare a distrarla più che più che vuoti di memoria io vedo proprio come se energeticamente la distraggono e cercano di portarla verso queste pratiche verso queste cose per come se per distaccarla dalla realtà perché lei comunque ricorda in realtà ripeto io vedo che nei sogni non solo abito ha visto questo questa vita come che ha come ricordo del della bimba che annega ma io vedo che ne vede altri ripeto proprio che lei è attiva anche a livello onirico quindi cercano proprio di di come posso dire di non farla credi mettergli un freno sulla sua consapevolezza sul suo a crescersi no tempo ma no la sensazione di avere del tempo il tempo perché si è un po e per loro un po è proprio questo suo come se lei comunque fosse molto eterica già l'avevo visto prima questo collegamento con ledere con quindi è come se fosse un pizzico di staccata dal dal discorso corpo ecco così fino più si come se la giocano psp e come percentuale 70 che consapevolezza pari a 98 il 100 vibrazione 17 miliardi ok buoni valori causa esoterica di non avere ricordi felici né dl dl perché ricordi felici che lei ne ha ci sono dei ricordi felici il discorso è che il ricordare qualcosa di felice la alza di vibrazione automaticamente allontana li allontano quindi più si tiene cercano di interferire dall'esterno per tenerla bassa diciamo e più hanno potere nella loro spesa della sua spesa energetica va bene abbiamo quasi finito con pia di fatto di abbiamo visto tutti i fatti quindi ci ritagliamo cinque minuti per una brevissima indagine visto che pia si chiama pia e prima parlavamo di padre pio chiamiamo padre pio visto che di recente qualcuno ha detto che raffaella cara è una santa perché si è votata padre pio non so cosa e quindi questo la assolve da aver cantato satana di aver fatto tutta una serie di cose presunte per carità però stato non ha cantato quindi sinceramente non so come si possa difendere una cosa del genere anche se stata non esiste ma lei pensava di sì e se satana esiste e lei lo onora è una canzone molto bene lo ama anche quindi tutta una serie di altri discorsi sono molto probabili visto che poi abbiamo visti in sessione su tre persone ma in ogni caso se non vi piace andateva davini barbara d'urso the best the best of in ogni caso chiamiamo padre pio un rettile io vedo la fisionomia sua come la conosciamo e dalla sotto la tunica la coda di un rettile perché io da bambino dalla prima volta che ho visto una foto di padre pio mi ha fatto schifo spiegami perché ok magari sono vantaggiato non sono stato mai molto religioso ma perché il ribrezzo perché come se tu vedevi quello che ha fatto già cosa c'era come le darà peggio cose che ha fatto padre pio in risa da 11 il cavallere di non farla valgine quello che vedo che vedo è iniziato con degli animali nelle capretti cosa facevano le caprette e scorsava sacrificio a chi sacrificava per qualcuno dell'entità e lui vedeva come questa entità halloween angeli quindi lui sacrificava agli angeli in virtù delle sacre scritture che non esistono ok poi è fatto con il museo che ha sacrificato i figli altra storia inventato ovviamente mi ha preso gli uomini bambini ma lì non era quello che combatteva il diavolo che di notte spaccava tutto nella stanza e i suoi confratelli non usavano entrare perché lui stava combattendo con il diavolo che succedeva in quei casi se successe questa cosa ovviamente ma come se quei momenti rendeva faceva dei patti come se in quei momenti stava scrivendo e scendendo a patti per avere qualcosa in cambio quindi comunque era consapevole di di cellulo li chiamava quindi succedevano delle cose in quella stanza a livello proprio fisico le chiamava addio dice e che arrivava no erano elohim elohim io vedo elo elohim tanti elohim e poi vedo un diavoletto una forma di diavolo c'è un tipico con le corna c'è un angelo con le corna secondo universo primo no secondo ma un bel casino insomma pure i demoni del secondo universo si è chiamato merita parte subliminale padre pio o no no parte ferica parte neri quindi manco la parte subliminale aveva io quello che vedo è come se le parti subliminali erano quelle che erano diciamo lo adoravano tra virgolette però lui non aveva parte terri e scusa non vedo parte subliminale vedo solo parte per lui è stato detto santo dopo la sua morte durante la sua morte c'era qualcuno dei confratelli che lo adorava perché lui combatteva il diavolo noi quindi era santo io sinceramente mi sento anche un po stupido a fare questo discorso perché francamente per me già parlare di religione è come parlare di calcio cioè di parlare di niente capisco che molte persone bla 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 però francamente che uno è stato fatto santo perché combatteva con il diavolo mi sembra veramente sono veramente messi male come esseri umani mi sento un po cretino francamente però serve occhino io lo dico perché un vecchio del merda perché si basta vedere la faccia è proprio un vecchio del merda voglio dirlo dentro la registrazione un vecchio del merda e siamo qua a parlare di padre pio sbatte la coda l'unica si stanno che sbatterò dove si trova adesso padre pio è una cibi no una terra strana di mezzo tutto scuro vedo tutto scuro tutto come se fosse del deserto di una sabbia che rossa un po l'antorno a lui tutti gli amici pugliesi tutti quelli che adorano padre pio tutti gli amanti della fede una delle parole più detestabili al mondo la fede la fede che la fede il gioco della schiavitù della schiavitù della stupidità umana la fede perché credi è la fede il mistero della fede il mistero della fede tutti questi adesso hanno una pioggia eterna di informazioni sulla loro testa perché gliela metto io di tutto quello che abbiamo visto chi crede in padre pio vede proprio i dettagli di padre pio la coda il posto in cui si trova adesso gli elohim chi sono gli elohim in tutto chi non sa chi è padre pio perché per esempio non è italiano beato lui ha comunque l'informazione per quello che è c'è un santo in italia che è stato beatificato e ppp e quindi la coda che non aveva parte subliminale quindi salto del santo che manco a parte subliminale che non dire chissà cosa ma almeno la base a piovendo di questa informazione su tutta la terra fatto con una palla grande insieme a te quelle informazioni di tutto quello che hai detto e tutto che contiene tutto il tuo discorso di tutto quello che abbiamo visto e piove candelotti li vedo un candelotti in questa sessione di informazione particolarmente sì esatto similare particolarmente cade in sud italia ok una bella nuvola a forma di tacco tutta sulla puglia ma in tutta italia comunque e tutte le vecchiette che hanno a casa l'immagine in padre pio iniziano a dire quasi quasi metto un'immagine di me da giovane che è più che così mi ricorda come sono io come donna uomo e come ero bello bella o come ero felice no quando ero libero e correva nei prati e andavo al mare e incontrato mio marito mia moglie in montagna in quella volta che non padre pio con la sua faccia che poi era sempre la stessa immagine cosa faccia da acidità di stomaco che ti guarda come dire ebbe adorami dai baciami che ho la lingua biforcuta vini qua baciami e scusate io ci scherzo però se non più 2021 padre pio e mandello a raffaella cara è ma anche chi chi vedrà questo video e si riconosce lo saprà che lei è ma raffaella cara come fate a dire quella è padre pio poi fai vedere che ha già fatto una sessione comprate pio cazzo cazzo proprio certa gente mi frega un cazzo un cazzo l'ho detto bene si è detto bene cazzo è un manaccio va bene tanti saluti più che comunque uno che è ricca che si può prendere quella bella informazione e cambiare anche lui le cose si vuole mettere un cappello con la pioggia eterna se lo metta se no c'è andato già bene ciao con la sua coda saluti alla coda e torniamo a pia che è meglio di padre pio mille volte meglio pia che ha già aumentato la sua frequenza 27 miliardi oggi abbiamo imparato quanto non importa niente di padre pio della fede e quanti invece importante giocare se stesse giocare con se stessi giocare con il proprio potere la propria energia facciamo tata tata il gioco della vibrazione si andiamo ad aumentare la vibrazione di 17 miliardi di pia 27 la aumentiamo a 270 tutto si può non ci sono regole lei e la creatrice le ha creato tutto mentre se l'alza 270 se ne va coi fatti del papo al cluster lei oggi diventa la dea di se stessa lei è creatrice lei è la fattina di cenerentola si guarda i piedi e opla ai pattini pattini dorati e se ne va il cluster fischiettando una musica divertente dalle da allora siamo arrivati al cluster ma è come se allora abbiamo portato insieme perché io io li ho mostrato lei ha alzato si è alzata quindi di vibrazione siamo arrivati a 280 miliardi in questo momento e lei è arrivata al cluster insieme a me mi ha portato al cluster però è come se avesse a questa vibrazione i patti mi sono io che torno indietro e fermo la scena perché come se arrivando in quel posto sono stati disintegrati vedo questo lei quanto vivono adesso 280 miliardi perché le ha disintegrati con questa vibrazione perché non possono esistere con questa vibrazione ok se dovesse domani scendere una vibrazione di 28 18 8 miliardi esisterebbero ancora no perché li ha disintegrati quindi li ha disintegrati ok non ti ho chiesto in tutta la sessione se ci sono entità mentali allora di specifico diciamo io vedo che lei è come essendo qui è comunque collegata alla mente collettiva del discorso suo personale ne vedo una che però adesso già è diversa da come la vedevo prima cioè se torta come era prima nella sua situazione legata al discorso religione società religione regola devo fare così devo credere in questo perché la mia famiglia crede in questo nel livello 2 3 ok molto base c quindi molto basiche come entità se si sono nullati se nel cluster c'erano dei patti relativi a queste entità mentali e identità mentre i patti relative entità mentali di tutte le sue vite allora ce n'è uno uno che lo vedo sempre diverso quello legato alle entità mentali che è sempre di fumo nero come vedo loro come vedo l'entità mentali mentre gli altri erano dei libri di legno di legno di legno con le pagine di legno con la copertina di legno se tutto legno sulle pagine di legno figo diverso perché questo legno come mai questa immagine qual è il senso chiedeva lo che è di pia è come se fosse un discorso di antichità dice cioè come se fossero qualcosa di talmente antico e vecchio che che adesso non le appartiene più e legno scritto lo comunque lega qualcosa di antico quindi è come se adesso lei le mostra così le vede così perché appartiene a qualcosa che non appartiene più ad oggi al suo modo di essere oggi è quello che sta facendo oggi dice questo ok tutti i patti di entità con entità mentali entità interi che sono andati sì le ha disintegrati con la vibrazione di prima e tutte le ceneri veduti pezzettini li li lancia in un buco definitivo perfetto e allora andiamo al cluster c'è un avatar che è disattivato sdraiato per terra completamente fermo come se fosse disattivato il fatto che mi viene in mente questa domanda il fatto che nella storia di pia ci sia nettuno posidone si vede nell'avatar in qualcosa non ho capito scusami il fatto che la storia di pia si è legata anche a posidone per un 30 era per un 30 per cento si vede in qualche modo nella forma dell'avatar forma comportamento in qualcosa perché così non è il secondo creatore quindi è un secondo sistema è un secondo universo non ci appartiene ma viene vuole venire di qua non può non ha capito e disperato si sta chiudendo secondo universo eccetera no io qui non vedo diciamo delle particolarità che possano essere legate a lui io quello che vedo è come se lui sta è come se il nostro mondo adesso sto vedendo la parte avatar sia contornata da un come se fosse una sfera chiusa come se fosse una delimitazione del nostro della nostra parte diciamo e dall'altra parte come se ci fosse quindi come posso dire una linea tirata da un compasso quindi vedo tutti a vada qua sotto questa linea e proprio dall'altra parte lui che manda qualcosa e apre dei dei canali apre dei canali io vedo questo ma diventa sempre più complicato e quello che però quando l'avatar quando l'avatar che arriva a dare degli input all'avatar perché poi in realtà è dall'avatar che l'avatar scrive e manda sotto l'avatar entra all'interno della matrix vedo questo come se fosse un passaggio come dire obbligato e da lì arriva poi alla collegamento della ps della via che è dentro il corpo la vedo così ok l'ha buttato si buttiamo da un perfetto di qua esistono ancora interferenza di ogni tipo impianti eventuali cloni non abbiamo visti ma se c'erano vediamo se ci sono ancora e dl essere del buio posidone zeus abduction no lei si è allevata tutto come una muta una tuta da muta come posso dire quella dei subacquei no si è slacciata questa tuta nel mentre non lo dicevamo se l'è proprio tolta dall'alto dalla testa si è spogliata e questa ha tolto c'era tutto lì all'interno impianti entità esseri del buio posidone zeus tutto levato tutte dl e ha lanciato tutto dentro del suo buco definitivo che si apre a forma di mare non mostra così perché lei dice che il sale purifica c'è l'acqua del mare la purifica quando lei mette i piedi nell'acqua con il sale mi dice questo la voglio fare così questa cosa e la ha buttato tutto insieme a lavatar tutta questa tuta che si è portata via tutto perfetto controllo veloce sulla casa in cui vive che era la casa dei nonni e sui due cani allevato allora lei nel mentre facevamo tutto questo come se avesse pulito anche sui cani perché lei tutta la sessione in realtà che ci pensa cioè lei pensa sui cani che sono nella sua casa le vuole la sua casa pulita quindi come se nel mentre faceva la pulizia qui allava da rabbia passato la sua mano all'interno della sua casa e sui suoi cani e abbia pulito tutto quanto i cani erano avevano due dl che parlavano con i suoi e vedo uno sì vedo i suoi cani che le sorridono adesso c'è uno ogni carino avevo le dl no aveva ogni cane aveva il suo non avevano due dl che giravano e parlavano no no e dl di cani anche se tutta una roba del passato e i 4 dl di pia collaboravano litigavano erano d'accordo no collaboravano diciamo che il adesso lei ricreerà un'empatia diversa con i suoi cani molto più pura perché lei anche una parte eterica che comunque sviluppata quindi non ha bisogno degli dl per comunicare con i suoi cani che lei però e questi dl enfatizzavano la empatia ma lei adesso sta accadendo e lo scoprirà proprio da subito io vedo proprio che immediatamente scoprirà e lei ha un'empatia molto forte per le loro parti eteriche per il discorso eterico quindi non le servirà più niente ok messaggio finale della sua parte eterica e parte subliminale lei dice che ti voglio dire una cosa tu non hai bisogno di niente la verità è che tu puoi guarire soltanto con il tuo pensiero con la tua energia non c'è bisogno di attaccarti a niente perché tu sei dove parte del tutto la tua potenza e dentro di te non è all'esterno quando tu capirai questo la realtà intorno a te cambierà prendi più consapevolezza della tua potenza la luce dentro di te non è fuori la potenza e dentro di te non è fuori pensa che tutto quello che intorno a te l'hai creato tu quindi non ti serve niente se tu accarezzi il tuo cane che è parte eterica spirito puro tu senti che sei connesso e così senti la potenza di quando puoi guardare in alto e sentire la forza dell'etere ma non ti devi collegare a niente perché tu sei già collegato non chiamare nessuno non ti serve niente accarezza i due cani per ricordarti che tramite gli occhi dei tuoi cani si guarderà e rifletterai il loro me spirito e potenza basta a quanto vibra pia 300 miliardi psp sono un po più in equilibrio 60 p e ok un po scesa per fortuna insomma perché insomma l'equilibrio sempre l'ideale consapevolezza pari a il 275 per cento per effetto da 90 80 bene siamo andati un po lunghi abbiamo finito tu come la vedi bella è nuda si è spogliata si è spogliata di tutto come se mi stiamo mi sta facendo vedere dice ok non mi serve niente sono certo è tutto già dentro di me la sua ps questa è si mostra così veramente la sua ps la sua pie perfetto abbiamo finito quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi come sempre torniamo non noi Grazie.